Quando dico di essere un ragazzo trans demisessuale, qualcuno mi risponde ormai ci sono troppe parole, LGBTQIA+, non riesco neanche a dirlo, gay, transgender, lesbiche, bisessuali, assessuali, demisessuali, non-binary, sono troppe etichette, non si capisce più niente. Ma da quando le parole sono troppe? Ci servono solo per descrivere la realtà, non per inventarla. E può la realtà essere troppa? Non ho mai sentito dire ci sono troppe etichette per descrivere i fiori. Sono tanti, crescono in posti diversi, climi diversi, hanno colori diversi, forme diverse. Diciamo margherita, papavero, tulipano, perché fiore non è sufficiente. Diciamo faccio l'architetta, faccio l'infermiere, perché dire lavoro non è sufficiente. L'identità ha bisogno di parole, perché altrimenti non esiste, è solo essenza che vaga nell'aria, incorporea. Per questo dico ragazzo trans demisessuale, perché Francesco non sarebbe abbastanza.